Ci sarebbero stati i primi cenni di respirazione. La terribile certezza arriverà solo dopo ulteriori accertamenti sui polmoni, ma sembra ormai chiaro che la povera neonata di Massafra nascosta nell'armadio di casa fosse ancora viva subito dopo il parto. Si aprono così sempre più spiragli sul caso che ha portato l'accusa di omicidio aggravato per la 25enne che è partorito in casa. La donna, piantonata in ospedale, ha ricevuto in corsia l'avviso di garanzia in cui gli viene contestata l'imputazione dal pubblico ministero, Remo Epifani. A questo passo la procura è giunta dopo l'autopsia sul corpicino privo di vita che poliziotti e carabinieri hanno trovato nascosto nell'armadio della camera da letto della donna. Oltre all'accusa di omicidio c'è quella di infanticidio e di occultamento di cadavere. Le differenze sono nette. Nell'infanticidio, ipotesi più attenuata in cui la madre provoca la morte del neonato subito dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, si va da 4 a un massimo di 12 anni. Nell'omicidio volontario, invece, si prevedono di base 21 anni di reclusione. Ecco perché gli inquirenti vogliono entrare in possesso di altri elementi, come gli esiti finali dell'autopsia, ma anche l'esatta valutazione del quadro accusatorio per il quale va considerato anche il contesto sociale e familiare in cui è avvenuto il fatto. La giovane donna, ha due figlie, versava in una condizione economica disagiata e il suo convivente, un muratore, non riusciva da tempo a trovare lavoro. Un quotidiano difficile, insomma, che potrebbe aver condizionato la giovane mamma ormai al termine della sua terza gravidanza.